Nell'ambito del progetto Disegnare e Scrivere l'Ambiente, ideato da Smaltimenti Sud di intesa con il Comune di Sernia per far comprendere ai più piccoli l'importanza della raccolta differenziata, agli alunni delle scuole del Capologo è stata data l'opportunità di visitare l'impianto di Pozzilli per informarsi più a fondo sul ciclo della gestione dei rifiuti e per assistere all'intero processo che porta alla separazione dei materiali in vista del loro recupero e successivo riutilizzo. Hanno fatto delle lezioni importanti riguardo la raccolta differenziata e tutto il processo del riciclaggio quindi quali sono i principi base della raccolta differenziata e sono andati presso l'impianto di Pozzilli proprio all'interno nel vedere con i loro occhi quello che accade, quindi tutto il riciclo della plastica proprio perché in quei giorni hanno lavorato la plastica e quindi hanno potuto vedere quello che accade come si trasforma una materia primaria in materia prima seconda e poi che fine fa in realtà viene trasformata in una nuova vita. Io penso, pensiamo tutti noi della Smaltimenti Sud che attuare questi progetti di sensibilizzazione e informazione ambientale siano importantissimi per i ragazzi proprio perché sono il futuro e sono la crescita per poter iniziare verso un futuro migliore e per poter iniziare con un piede giusto verso un mondo appunto più pulito. Tra le scuole che hanno aderito al progetto c'è l'Andrea di Sernia, da sempre sensibile alle tematiche della tutela ambientale. Attraverso questa visita all'impianto di Pozzilli i docenti hanno voluto rendere i ragazzi più consapevoli facendo comprendere loro che la raccolta differenziata rappresenta una delle armi più efficaci tra quelle impiegate nella lotta all'inquinamento. Abbiamo dato l'opportunità ai ragazzi dell'Andrea di scendere in campo e di mettere, di vedere in concreto concretamente quanto è stato approfondito in classe. Separare è un obiettivo e farlo sempre meglio è un obiettivo verso cui tendere e questo è il compito della scuola. Poi saranno anche ad esempio per i genitori. Sì, un esempio che noi diamo agli alunni e quindi anche indirettamente alle famiglie.